Ciao domotici e ciao casalinghe domotiche e no, oggi sul canale di pensieri dell'architetto vi porto il più piccolo robot spirapolvere al mondo con svuotamento automatico ma con la potenza di aspirazione pari ai fratelli maggiori e di marche blasonate. E ora, mentre io vado ad accendere il robot, voi avete tempo a mettere un mi piace, dare un contributo, prezionare il mio canale con un bel commento, iscrivervi allo stesso canale, stimolandomi così a portare avanti il progetto di domotica del canale di pensieri dell'architetto. Sigla! E grazie al vostro sostegno che date al canale mi avete fatto conoscere, la ditta Switch4 mi ha mandato in anteprima questo prodotto da presentare sul mercato italiano. Infatti da oggi lo trovate in vendita su Amazon e sullo store, ma mi raccomando, compratelo tramite i miei link perché avete un ulteriore sconto del 20%, poi andremo a vedere quanto costerà. Questo robot è il robot più piccolo al mondo con svuotamento automatico grazie a questa magnifica base dal contenuto strabiliante. Questa base che ha un sacchetto molto capiente e che permette di andare a compensare praticamente le dimensioni del piccolo cassettino di svuotamento. Qua avete anche il pezzo che permette di ancorare il panno elettrostatico per pulire i pavimenti in completa silenziosità. Quando è in questa modalità lo switch praticamente non si sente. Per togliergli il sacchetto funziona un po' come tutti i robot, si tira sulla linguetta e si sfila nel nostro sacchetto. Pettinino per andare a pulire le nostre setole. Questo robot ci permette di arrivare negli spazi dove gli altri robot non arrivano. La differenza di questo prodotto la fa proprio la dimensione. Infatti grazie alle sue dimensioni può andare tranquillamente sotto le sedie, in mezzo al tavolo, in modo da poter andare a raccogliere la polvere in tutti gli anfratti e in tutti gli angoli di casa nostra. Come è costruito? La particolare di questo robot lo troviamo proprio qua nel coperchio. Coperchio calamitato che si può togliere. Di qua raggiungiamo il nostro interruttore on off, i due tasti di accensione e ritorno alla base per la ricarica, lo svuotamento, la torretta per la mappatura di casa nostra e il nostro cassettino per la raccolta della polvere. Il cassetto vi sembra molto piccolo, però ha la possibilità di andare a svuotarsi tutte le volte che vuole. Questo cassettino è strutturato in questo modo qua. Praticamente si prende, si può fare anche lo svuotamento manuale, si apre in questo modo. Una volta aperto di qua avete anche l'accesso al filtrino per la polvere che può essere estratto e poi essere lavato oppure intercambiato. Trovate anche dei ricambi direttamente nella confezione. Nella scatola trovate anche un set di panni elettrostatici, i ricambi per la spazzola laterale. Vedete come è strutturato il robot? Spazzola laterale, i vari sensori anticaduta, sensori tappeto, il sensore meccanico che ci permette, nel momento in cui la torretta non va a rilevare gli ostacoli con laser, ci pensa la molla a fare indietreggiare il nostro SwitchBot K10+. Le due ruote con un bel grip che permettono di salire tranquillamente anche sui tappeti, ha il sensore tappeti e i sensori anticaduta come dicevo prima. La spazzola antintrappolamento dei capelli, poi fa quello un po' quello che può, sia con la parte di setole che la parte gommata, che permette proprio di contenere l'intrappolamento di quello che sono fili, capelli e quant'altro. Modalità di aspirazione ben a quattro stadi, personalizzabili direttamente dall'app. Poi c'è la modalità con lo straccio elettrostatico dove i decibel veramente scendono a 25 decibel, praticamente non lo sentite passare. Questo robot è comunque sinonimo di solidità perché il peso è veramente importante, nonostante le dimensioni contenute. È già da un paio di settimane che lo sto testando e va veramente bene. Quando passa sopra ai tappeti lui cambia di intensità di aspirazione, questo comunque può essere anche disabilitato dall'app di SwitchBot, e per adesso non ha problemi di intrappolamento con gli oggetti. Ha una funzione particolare che ve ne parlerò poi nel proseguo del video. E poi signori, SwitchBot arriva veramente dappertutto, in tutte le parti di casa nostra, dove le dimensioni grandi degli altri robot aspirapolveri non gli consentono di passare. Però, ahimè, SwitchBot gli manca una cosa, ma quello andremo poi a vederlo più avanti nel video. Avete la casa su più piani? Nessun problema, SwitchBot si salva le varie mappe e poi puoi richiamare nel momento in cui lo sposti da un piano all'altro. Le mappe sono configurabili con aree vietate, linee di sbarramento, possiamo andare a nominare stanza per stanza, in modo che poi i nostri assistenti domotici possono andare così a pulire esattamente quello che andiamo a dire. Ciò possiamo andare a dire, Alberta vai a pulirmi il bagno, il robotino partirà e inizierà a pulire solamente nel bagno. Torretta laser per mappare direttamente casa vostra. Mappatura molto precisa, devo dire che mi ha veramente impressionato. Crea direttamente le sue stanze. Voi potete darle poi a configurare, a nominarle oppure a cancellarle, vedete voi. Potete anche creare delle zone vietate, le zone dove potete andare a configurare delle impostazioni di pulizia più approfondita o meno approfondita. Poi salvate tutto sulla vostra app e andate a riprendere una singola mappa con le varie impostazioni tutte le volte che lo desiderate. E ora, grazie alla torretta, andiamo a vedere questo breve video che ho girato nelle ore notturne, sempre che ci sia una presenza in casa mia. Vedete i laser che stanno mappando la casa? Sì, sempre che ci sia una presenza effettivamente che stia girando per casa. Invece è il nostro K10 Plus della SwitchWatt. Ma allora, che cosa gli manca al nostro K10 Plus della SwitchWatt? La parola? Ve lo dico dopo. Al K10 Plus potete cambiare il nome, io di fatti l'ho chiamata Bianca. Quindi gli dico, Alberta, manda Bianca a pulire la cucina, lui parte, va, ritorna e si svuota. Configurabile totalmente dalla sua app di SwitchWatt, è raggiungibile anche da remoto, in modo che, nell'eventualità, lui avesse dei problemi oppure volete farlo partire direttamente da remoto, basta accedere col cellulare, lo programmate oppure lo fate partire immediatamente a fare la pulizia di casa vostra. Può essere inserito direttamente nell'automazione di SwitchWatt, dove si può andare a dire, nel momento in cui io chiudo la porta, il sessore della SwitchWatt mi va a individuare che ho chiuso la porta e che me ne sono andato via, non ci sono più presenze in casa, a quel punto lì lui si attiva e inizia a fare la sua pulizia. Il K10 Plus dialoga direttamente tramite la sua app, direttamente sul vostro telefonino, difatti vi avverta se rimane intrappolato oppure se ha dei problemi di funzionalità. Vi trovate la vostra notifica direttamente sulle notifiche del vostro cellulare. Potenza d'espirazione di 2500 MPa, batteria a litio da 3200 mAh. Ricanicarvi automaticamente tramite la sua base. La base ha un sacchetto che contiene ben 4 litri di polvere. Ne avete per diverse settimane. È in grado di superare gli ostacoli alti fino a 2 cm. Al comando trova robot, nel momento in cui voi azionate quel comando, lui vi dirà sono qua e farà trovare il robot in eventualità venisse incastrato in qualche angolo della casa. Questo robot mi piace perché è veramente smart e anche intelligente. Difatti è alla base a questo software che è molto performante, che poi andremo a vedere nel dettaglio le singole configurazioni. Ora però andiamo a vedere come si comporta sul campo il nostro robot facendo aspirare un po' di roba. Andiamo a fare le nostre prove. Buttiamo briciole e un po' di caffè. Ora andiamo a chiamare SWITCHWAT. Vedete inizia prima a fare gli angoli. Passa tranquillamente sotto tutti i mobili. Vedete è riuscito ad entrare dentro grazie alla sua dimensione. Il mio precedente robotino non ce la faceva. Adesso si fa il perimetro, faremo interagire con le briciole e il caffè. Ecco chi fa il suo giro. E ora vediamo come si comporta. Wow! Ha praticamente già spazzato via tutto il caffè. Passa anche sotto i sanitari tranquillamente. Va a cercarsi l'angolino. Che visto che nel cassetto vedete che ha aspirato le briciole. Ora torna indietro. Queste sono le ultime tre briciole rimaste. Vengono aspirate. Grazie alle sue dimensioni contenute, che vi lascio qua in sovra in pensione, passa tranquillamente sotto quasi tutti i mobili di casa. Ma quanto costa questo prodotto? Il prezzo è abbastanza importante. Però sapete che SWITCHWAT fa sempre degli sconti abbastanza aggressivi. Infatti acquistandolo grazie al link qua di Pensiere dell'architetto o sullo store o direttamente su Amazon avrete uno sconto in promozione del 20%. Perciò partendo da 4,99 che è il prezzo base, potete scendere tranquillamente a un prezzo che ritengo molto adeguato per il prodotto di per sé. Che è sempre un robotino piccolino ma ha funzionalità veramente accattivanti, configurabili e fa veramente il proprio dovere per le pulizie di casa nostra. Ringrazio SWITCHWAT per la collaborazione e voi anche per il sostegno che vi date con i vostri commenti e i vostri mi piace. Che mi hanno permesso di farmi conoscere da queste ditte e poter testare in anteprima sul mio canale prodotti appena inseriti sul mercato italiano. Grazie a Vicio e grazie a voi che mi seguite. Ma andiamo avanti a scoprire cos'è che manca a questo. robot. Gli mancherà mica la parola? No, la parola ce l'ha. Quello che gli manca però è la lingua italiana. Potete andare a scegliere tra inglese, giapponese, io ho portato giapponese, mi andiamo per casa ed è veramente una rottura di paletto. SWITCHWAT mi raccomando, cerca di fare il tuo dovere e proporre il pacchetto italiano in modo da avere a disposizione anche questa determinata funzionalità. Bene, ora andiamo a vedere l'installazione e la relativa configurazione. Accediamo all'app di SWITCHWAT. Andiamo ad aggiungere il dispositivo. Vediamo che ci ha evidenziato il robot Vacuum K10 Plus della SWITCHWAT. Qua ci fa vedere come fare il pulsante di accensione e spegnimento che vi ho fatto vedere prima nel video. Andiamo avanti. Teniamo premuto i due pulsanti dai 3 ai 5 secondi per far connettere il nostro SWITCHWAT alla rete Wi-Fi. Questo serve anche per fare il reset del dispositivo. Ha emesso il suono. Avanti. Ed ecco qua che parte la ricerca del dispositivo. È stato trovato. Ok. Andiamo avanti. Andiamo a evidenziare la nostra rete Wi-Fi che deve essere 2.4. Connettiamo. Connesso. Ok. Ora parte la configurazione. Ha inviato il messaggio al dispositivo. Ed ora connetterà il dispositivo alla rete. Connesso con successo. Iniziamo ad usare il nostro K10 Plus. Vedete che è già stato anche connesso con Alexa. In questo momento potrete già utilizzare il vostro dispositivo direttamente con Alexa. Andiamo a dare un nome al dispositivo. Lo chiamiamo SWITCHBOT. Scegliamo la stanza. Soggiorno. Ok. Prossimo. Posizionate il robot accanto alla parete dove il segnalo Wi-Fi è buono. Nel mio caso è molto vicino al router. Ma diamo la base di ricarica alimentata. E togliamo tutte le interferenze dalla nostra base. Liberiamo la camera da ogni ostacolo. E facciamo partire il nostro robot. In modo che possa fare il tracciamento della nostra abitazione più precisa possibile. Ed ecco che ha rilevato le nostre stanze. Ecco il nostro robot. Ti dice che non c'è nessuna mappa. Ma adesso andremo a crearla. Avviando direttamente il robot. Vedete che sta rilevando i primi ostacoli delle nostre stanze. Con i vari muri, gli arredi e quant'altro. Grazie alla sua torretta a raggi laser e infrarossi. Sta andando praticamente a crearsi la mappa del piano terra di casa mia. Sulla mappa vi lascia questa traccia bianca per farvi vedere dove è passato il robot. E poi vi evidenzia con il cerchietto blu proprio la posizione in tempo reale del robot aspirapolvore. Vedete che man mano che si sposta il robot lascia la traccia e va a integrare quelle parti che mancano della planimetria di casa nostra. Ora si sposta in un'altra zona per andare a parlustrare le altre parti di casa. Ok, ora andiamo a vedere i pulsanti laterali. Con questa si crea la zona vietata, si va a posizionare e a ridimensionare. Ecco, questa è la parete virtuale, una zona non straccio, di qua potete spostare la vostra planimetria nella posizione che più vi aggrada e così da applica. Di qua potete andare a scegliere le modalità di pulizia variando così la potenza dell'aspirazione del vostro robot. Ci sono quattro tipi di modalità di pulizia e qua invece avete gli altri comandi. La mappa, una volta che è creata potrà poi essere modificata. Adesso è il primo avviamento, di conseguenza la mappa non è ancora presente. Quando finirà la pulitura avremo poi questa mappa a disposizione per le varie modifiche. Il rapporto di pulizia, la possibilità di programmare le pulizie, dove di qua si va a scegliere la fascia oraria. Tipo di modalità di pulizia, silenziosa, standard di ipotezza e modalità massima. Se ripetere una o più volte, se quotidiano, i giorni feriali, fine settimana o sua misura, conferma. La posizione di pulizia, se è tutta la casa oppure una zona. Quante volte fare la pulizia? Una o due volte. E qua potete poi andare a salvare o ad attivare o disattivare la programmazione. Vedete che nel frattempo sono già state individuate le varie camere. Di qua potete andare a selezionare il pacchetto voce, che ahimè non c'è la voce in italiano. La modalità di controllo manuale col telefonino del vostro switchboard è necessario che il telefono sia connesso alla stessa rete wifi del vostro switchboard K10+. Qua lo fate girare, lo mandate avanti, indietro e così via. Avete visto? Lui in automatico è già andato a crearsi delle camere. Poi noi andremo a modificarle a nostro piacimento e anche a nominarle. Vita utile degli accessori. Qua ci dice quando sarà necessario andare a cambiare le parti di ricambio dello switchboard. Vi ricordo che trovate comunque le parti di ricambio già nella confezione, tipo la spazzola laterale, i filtri e quant'altro. Le impostazioni, andiamo a vedere. Allora, di qua si può andare a impostare l'orario di non disturbo. In quel periodo lì, lui praticamente non andrà a scaricare la polvere per non svegliarvi, per non disturbarvi ulteriormente. Si salva. Se ne possono aggiungere più fasce orarie. L'impostazione del volume. Io l'ho tarato a 30% per non fare troppo fastidio. Qua poi c'è tutta una serie di configurazioni in base ai minuti di pulizia. Io ho lasciato light per non andare a scaricare troppo velocemente la batteria. La possibilità di decidere se svuotare o no manualmente il nostro switchboard. Io l'ho poi attivato in modalità automatico in modo che, pur essendo piccolo il serbatoio, lui decide quando andarlo a svuotare in modo da poter avere sempre una pulizia efficiente. L'illuminazione o no dei pulsanti. Altro comando interessante per chi ha dei bambini, il blocco bambini. La modalità senza collisioni. La modalità a tappeto che ci permette di andare ad aumentare in automatico la potenza di aspirazione quando lo switchboard, tramite il suo rilevatore, va a individuare che quella lì è una pavimentazione a tappeto. La possibilità di arrivare al dispositivo. Gli assistenti domestici. È già collegato al mio Alberta. Gli NFC, le domande frequenti. La versione del firmware. In questo caso è già aggiornato. E l'informazione del dispositivo con tutti i vari dati, il numero di serie, il wifi, l'indirizzo IP e quant'altro. Di qua potete anche eliminare il dispositivo. Ora facciamo terminare la pulizia in modo che lui crei la prima mappa. Di qua vedete che potete andare a individuare le varie camere. Di qua potete andare a scegliere la modalità straccio oppure aspirazione. La modifica del piano. Che può essere personalizzato camera per camera. Infatti questo qua diciamo è un pezzo forte di questo robotino. È proprio l'ottimo software di partenza che ci permette di andarlo a configurare in tutte le sue versioni. C'è la possibilità anche poi di andare a modificare le singole camere. Unendole oppure dividendole ulteriormente spostando la parete in qua o in là e rinominandole. Qua torniamo sulla nostra app di SwitchBot. Ecco questi qua diciamo sono i tre pulsanti che vi danno a disposizione. Poi facendo più controlli vi porta praticamente nella schermata dove avete il controllo totale del dispositivo. Diamo ancora uno sguardo all'impostazione delle varie camere. Vedete ormai la planificazione di casa mia è pronta. Cliccando sopra su ogni singola camera facendo modifica mappa posso andare a cambiare il nome. Scelgo il nome che più mi agrada oppure posso anche andarlo ad editare. In questo caso non c'era il nome del bagno sono andato a scrivere bagno. Qua andate a evidenziare le camere che volete che il vostro K10 vada a pulire. Potete andare a creare delle zone vietate. Vedete qua vi spiega come andare a realizzare le barriere, le zone vietate oppure mettere insieme le varie camere. Nel mio caso ho fatto una barriera in questo modo qua in modo da andare a dividere queste due camere dal bagno all'antibagno. Vedete in questo modo ho ottenuto una nuova camera. Gli do il nome ed ecco fatto. Vedete quelle aree rosse sono praticamente le aree che sono andate a individuare dove il robot non deve andare a pulire perché c'è una lampada, c'è la doccia che ha lo specchio trasparente e ha difficoltà effettivamente al robot a trovare il punto dove deve fermarsi e non sbattere contro lo specchio. E questa è praticamente la configurazione a 360 gradi del software della SwitchBot. Ma la domanda che fate sempre al piacere dell'architetto qual è? Ma questo dispositivo si integra in Home Assistant? Allora, ad oggi il dispositivo non si integra ancora in Home Assistant però la SwitchBot mi ha assicurato che stanno integrando anche per questo dispositivo il protocollo Matter. Infatti la SwitchBot è tra le prime ditte costruttrici di dispositivi ad aver integrato il protocollo Matter per i suoi dispositivi domotici. Infatti se voi avete dei dispositivi di SwitchBot mi raccomando andate ad aggiornare il firmware perché con quello potete integrare tramite il protocollo Matter e in quel modo lì sono compatibili al 100% con la piattaforma di Home Assistant. Perciò anche un grazie a SwitchBot per essere all'avanguardia col protocollo Matter ed ha la possibilità di gestire questi dispositivi tranquillamente anche da Home Assistant. Ma qual è la particolarità della configurazione di questo robotino che vi dicevo prima nel video? Un comando che mi ha fatto veramente piacere. Infatti io avevo un problema di intrappolamento delle tende con il precedente robot. Questa particolarità, la modalità anti-collisione. Grazie a questo da quando ho attivato questa modalità non ho mai più avuto problemi con le tende di casa cosa che prima col vecchio robotino rimaneva sempre intrappolato. Bella trovata SwitchBot, compatibile con gli assistenti vocali Alberta, Google Home e Siri. Lo chiamate? SwitchBot vai a pulirmi il bagno e la cucina, lui parte in automatico, poi ritorna alla sua base a svuotare la polva raccolta e a ricaricarsi pronto per una nuova pulizia. Passa veramente dappertutto. E bravi SwitchBot, ottimo prodotto KDC Plus, il robotino che pulisce a casa nostra. Sono veramente felice di aver potuto testare questo prodotto sul mio canale. Ringrazio nuovamente SwitchBot e ringrazio voi per avermi seguito. Mi raccomando, lasciate un mi piace, lasciate i commenti, like, iscrivetevi al canale per far crescere e invogliarmi e portare avanti il progetto domotico del canale I pensi all'architetto. Ciao domotici! E ciao domotici! Ciao domotici! Ciao domotici!